L'oroscopo di Astra Ben trovati all'ascolto, eccoci all'appuntamento con l'oroscopo per giovedì 4 giugno. Ariete, la curiosità è la molla che ti spinge ad ampliare gli orizzonti. Non ti fermi alla superficie, non ti limiti alla pura conoscenza, preferisci agire e puntare alto. Un po' ti girano se qualcuno rema conto, e non fai nulla per nasconderlo. Toro, la musica può cambiare già inizio giornata, perché quando puoi unire praticità e intuizione, pazienza e sensibilità, non ce n'è per nessuno. Venere e la luna illuminano la tua serata, un po' di romanticismo non guasta. Gemelli, di buono c'è che la luna ha tolto il disturbo, e già questo è sufficiente per alzare il morale. Quanto al resto, sei in una botte di ferro, con la mente sul pezzo, la grinta al top, e il fisico che risponde alle solicitazioni. L'eros è da scintille. Cancro, l'umore mutevole un po' ti frena, cose che possono capitare quando, come oggi, la luna affronteggia il tuo segno. Ti tocca metterti l'animo in pace e limitare l'ansia, anche perché, grazie a venere amica, l'amore può sorriderti. Leone, di buone ragioni per tirare diritto sulla tua strada ne hai a bizzeffe. Con giovane il segno del resto, puoi sempre sperare in un aiuto della sorte. È ancora qualche credito da vantare, la ferma volontà di incassarlo a tambur battente. Vergine, una boccata d'ossigeno è ciò che può fornirti la luna del giorno. Almeno se ti affide la concretezza e se capisci da che parte tira il vento, è meno complicato tenere botta. La serata in coppia si annuncia nel segno delle emozioni. Bilancia, non bastano i disguidi a far saltare i tuoi piani, perché hai pronta una soluzione di riserva per tutto e perché la mente gira a pieno regime. Il clima in coppia è ancora agitato, ma può tornare a splendere il sole a stretto giro di posta. Scorpione, ne sai una in più del diavolo. È questo che ti aiuta a fare la differenza. Se sorretta dall'ambizione, l'astuzia può portarti lontano. In coppia è tempo di sorrisi e forti emozioni. Un po' più di praticità è ciò che davvero ti serve. Sagittario, l'agitazione non serve. Ci sono situazioni che solo la pazienza può risolvere. Marte, Mercurio e Sole che ti fronteggiano non sono il miglior biglietto da visita per chi spera in un po' di pace. Novità in arrivo per gli affari di cuore. Capricorno, la luna nel segno cambia le prospettive della tua giornata. Puoi scorgerne le prime avvisaglie nel ritrovato dinamismo, nell'umore al top, nella personalità decisa. Cambia in meglio anche il clima di coppia. La serata è eccitante. Acquario, non ti fa intimidire. Di buono c'è che sai cosa fare e come centrare i tuoi obiettivi. Mercurio, Marte e Sole confermano il tuo stato di grazia mentale e fisico. Se chiedi gli straordinari alle tue forze, non resti a secco. Eros da sballo. Pesci, ti tocca giocare in difesa di questi tempi. Colpa della mente sbadata, della pazienza ai limiti e del fisico che non risponde sempre alle sollecitazioni. Il tuo intuito però regge. Può bastare per tenere alta la tua bandiera in amore. E anche per questo appuntamento con l'oroscopo di Astra ho concluso. Grazie per l'attenzione.